Tante le associazioni che hanno preso parte all'iniziativa di oggi della Lilt per i suoi cento anni, per i suoi primi cento anni, siamo con Sergio Carozza, responsabile dell'ACLI Caserta. Allora, una bella mattinata e ha visto tra l'altro anche tanta vivacità, tanta gioia. Sì, noi collaboriamo da anni con la Lilt e per noi è un onore perché l'attività che loro fanno di prevenzione è un investimento per il futuro per i ragazzi, perché è una ricchezza poter essere introdotti in percorsi di prevenzione alimentare, sportiva e questa mattina c'è stato il consolidamento, la celebrazione, la premiazione di questi percorsi. Un ragazzo che riesce ad essere subito consapevole di cosa significa e come fare prevenzione è un ragazzo che sicuramente crescerà meglio.